Cinque condanne con pene da 14 a 20 anni, determinate con la riduzione di un terzo. Le ha proposte al GUP Loredana Camerlingo il PM Nicoletta Giammarino. Per cinque delle sei persone la posizione dell'altra è stata stralciata per un impedimento del difensore e sarà avvaiata il 29 settembre, che hanno scelto il rito abbreviato dopo essere rimaste coinvolte nell'indagine dei carabinieri del reparto operativo e della locale stazione sulla rapina e l'omicidio di Maria Coppola, la 72enne di San Giorgio del Sanio, morta a Rummo il 18 febbraio dello scorso anno, dieci giorni dopo essere stata aggredita e picchiata nella sua abitazione in Mia Bocchini. In particolare il rappresentante della pubblica accusa ha chiesto 20 anni per Daniel Costandine Pandalea, 22 anni, rumeno, residente a San Giorgio del Sanio, 16 anni per il 25enne Giuseppe Mottola, 15 anni per Alfredo De Capua, 31 anni, entrambi di San Giorgio del Sanio, 14 anni per Luigi De Vizio, 25 anni di Torre le Nocelle in provincia di Avellino, 14 anni per Alin Costantin Ifan, 22 anni anche egli di nazionalità rumena. Per i due stranieri, Mottola, De Capo e De Vizio, le imputazioni di rapine e domicidio. Per Mottola e De Vizio, anche quella del furto di una Ford Fiesta, adoperata per il colpo e poi data alle fiamme, un ruogo contestato solo al primo. Stralciata invece, per un impedimento del difensore, la posizione di Giuseppe Denunzio, 24 anni di Benevento, che risponde solo di furto e incendio. Alle conclusioni, la dottoressa Gianmarino è giunta dopo una requisitoria, che in due ore ha ripercorso l'attività investigativa svolta sulla tragica vicenda. Una ricostruzione contestata dai difensori. Le loro arringhe si concluderanno giovedì prossimo, quando il giudice si pronuncerà anche su Umberto Cammarata, 33 anni, di Benevento, e Antonella Pia Bruno, 25 anni, di Napoli, che hanno scelto il rito ordinario. Il primo è accusato di furto e incendio, la donna di favoreggiamento. Grazie a tutti.